Due nuovi casi di positività al covid-19 emersi nella giornata di ieri per la città di Agropoli e un cittadino guarito. La situazione attuale porta quindi a 62 i casi di positività totali e a 197 il numero di guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia. Nuovi contagi anche nel comune di Castellabate comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asda di Salerno. Si tratta di due concittadini in isolamento da alcuni giorni che lavorano fuori comune e che hanno contratto il virus sul posto di lavoro. Per entrambi è stata ricostruita la rete dei contatti e sono tutti in isolamento, fa sapere il sindaco facente Funzioni Luisa Maiuri. Non si arrestano invece i contagi nella città dei Templi. Ieri nel report serale l'amministrazione di Capaccio Pestum guidata dal sindaco Franco Alfieri ha informato la popolazione di nove nuovi contagi che fanno salire il numero di positivi a 157. Resta invece fermo a 28 il numero di cittadini che hanno contratto il covid-19 nel comune di Pollica.